Ciao a tutti benvenuti al mio canale come state? Allora con questi capelli da cocker che mi ritrovo oggi però so che mi volete bene per cui non ci farete caso video prodotti finiti sarà un fritto misto tra igiene personale e make up e direi di partire subito perché sarà un video lunghissimo già ve lo dico allora abbiamo utilizzato e finito lo shampoo alla mela verde di balea da 300 ml preso il dm pagato pochissimo ottima la profumazione sapete che noi con il shampoo di balea ci siamo sempre ritrovati molto male non andiamo d'accordo viaggiamo su due polli opposti l'abbiamo utilizzato e finito come sapone per le mani piuttosto che buttarlo insomma l'abbiamo finito così ad ogni modo molto buona profumazione consistenza in gel per i capelli a mio marito ha creato un sacco di prurito a me invece andava ad appesantire calcolate che ho altri due o tre shampoo di balea che avevo acquistato diverso tempo fa al dm ok nel frattempo butto vedremo insomma poi vi farò savoir non mi posso vedere con questi capelli oggi ma voi lasciate stare abbiamo utilizzato e finito uno dei nostri preferiti lo shampoo ultra dolce di garnier per capelli secchi e spenti olio di camellia e argan molto buono sapete che ho acquistato più e più volte tutta la linea con il balsamo ma soprattutto la maschera è ottima sia da utilizzare come maschera ma anche come impacco pre shampoo poi anche qua garnier non mi ha pagata però sapete che io adoro i prodotti di questa marca abbiamo utilizzato e finito idra ricci shampoo e balsamo ad alta definizione io ho dei capelli di un mosso poco definito tipo stile beach waves ma dei poveri mio marito invece è molto 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 riccio sono prodotti che lavano molto buoni vanno a districare ovviamente non fanno miracoli non è che se uno ha capelli lisci in automatico utilizzando questi prodotti li ha ricci però sono molto cremosi lo shampoo è davvero molto buono anche la profumazione è piaciuta tanto con all'interno olio di pistacchio e pectina di frutta e poi idra ricci balsamo definizione capelli da mossi a ricci devo dire che mi sono trovata molto bene sapete che io adoro di più le maschere sui miei capelli dato che ne ho tanti sono spessi pieni di nodi soprattutto dietro all'attaccatura dei capelli di conseguenza tendo ad utilizzare delle maschere abbastanza belle pesanti tipo garnier così tanto per dirvene una alla banana ad azione nutriente però devo dire che alcuni balsami tipo questo mi ci trovo bene lui soprattutto mi andava a rendere i capelli belli morbidi e districati scusate per i rumori ma non so dove mettere la roba per cui qui ho messo la bustina e butto tutto dentro anche perché oggi c'è la plastica quindi butteremo tutte le cose ad ogni modo utilizzato e finito sun silk ricarica naturale alte verde limone per capelli grassi effetto detox è piaciuto molto sia a me che a mio marito l'abbiamo utilizzato dopo aver usato il famoso shampoo volumizzante fronti rossi di Balea che ci aveva creato un sacco di problemi ve ne avevo già parlato utilizzando questo sarà stato lui o meno non lo so fatto sta che il problema è stato risolto sia il mio che quello di mio marito utilizzata e finita della bio happy una maschera biologica nutriente presa su ecco verde alla banana per capelli secchi e stressati si presenta così buona diciamo che è molto simile a quella di garnier ad azione nutriente air food se devo scegliere chiaramente per una questione di quantità ma anche a livello di prezzo quando è scontata preferisco la maschera di garnier però anche questa non mi è dispiaciuta molto buona lasciavo anche i capelli profumati di banana a lungo bella cremosa mi è piaciuta ma non l'andrò a ricomprare e poi utilizzati e finiti questi due prodotti per lo styling che ho usato assieme bilboa e nivia allora questa è di bilboa new ma credo ci sia da un bel po' numero 4 extra forte nonostante tutto non andava a rendere i capelli secchi anzi buonissima la profumazione all'interno contiene ceramidi ceramidi e gocce di argan ottima quindi andavo ad utilizzare prima lei un bello scrunch e subito dopo questo che è un gel di nivia extra forte numero 4 con pantenolo e vitamina b3 ne ho sentiti peste e corna riguardo questo prodotto però devo dire che io mi sono trovata molto bene perché non mi andava né a seccare né tanto meno ad appiccicare le lunghezze questi due prodotti sono ottimi poi utilizzati e finiti diversi prodotti per il viso tra cui dischetti di cotone a gogo tra l'altro una ragazza mi aveva ripresa in qualche modo dicendomi no non devi utilizzare questi dischetti ma devi usare i dischetti quelli insomma che buttate il lavatarice e li lavate no perché da che mondo è mondo io mi sono sempre trovata bene con questi che acquisto un po' ovunque a prescindere se sono in offerta o meno diciamo che quelli grossi ora vi faccio vedere questa di avilea sono dei maxi ovali struccanti viso colleri coltè di solito li utilizzo sia sul viso ma anche per rimuovere lo smalto quelle poche volte che lo metto e poi quelli piccolini invece per gli occhi e per le labbra questi sono della make up linea che poi bene o male sono sempre gli stessi e poi questi della ebelin che andrò sicuramente a ricomprare sia questi piccoli ma anche quelli grossi perché costano molto meno rispetto a tanti altri e sono ben cuciti e non si sfaldano poi parlando di struccaggio ho terminato il mio garnier bifasico della linea sensitive essential ottimo questo andava agitato e poi utilizzato sapete che io lo promuovo da anni mi piace strucca bene anche prodotti waterproof non brucia non irrita per cui top anche perché io ho la zona pericolare molto delicata e sensibile quindi devo stare attenta utilizzata è finita la mia acqua di repole che ho acquistato da tigotà sui 18 euro c'è anche il formato più piccolo ma io ho voluto prendere questa confezione un po' più grande e devo dire che mi è durata parecchio ho rapporto quantità ma anche qualità prezzo ottima mi è durata tantissimi mesi l'ho utilizzata tantissimo al posto del tonico perché io non uso più tonici ma poi l'ho utilizzata anche un po' sul corpo e sul viso in estate buonissima ho finito quella di balea lo sapete che può essere usata anche come fissante per il make up ma al momento sto usando quella di Vichy e devo dire che è molto buona poi sempre per il viso ho utilizzato e finito e qui avanti questi due patch della Garnia Antifatica sono tra i miei preferiti molto buoni sono dei patch che si rimuovono poi facilmente e vanno ad attenuare tantissimo le occhiaie e non vanno a seccare come alcuni patch che ho provato in passato appunto la zona con tornocchi ho utilizzato e finito questi patch fiori di lotto di Sephora che avevo in scorta da una vita e mezza questi sono idratanti, rilassanti molto buona la profumazione anche questi mi sono piaciuti ho utilizzato e finito le solite maschere in tessuto della Garnia questa è per peli secche e delicate molto buona, mi è piaciuta un po' come tutte insomma anche se è la mia preferita scusate ogni volta qui devo prendere la medicina per cui ogni volta appunto la sveglia perché altrimenti mi dimentico dato che ne devo prendere 2000 di medicinali comunque dicevo questa è molto buona però la mia preferita in assoluto è quella al melograno comunque sono tutte a base di acido ialuronico e questa è la maschera invece per pelli da normali a miste alte verde se non sbaglio comunque sono delle maschere in tessuto molto imbevute molto valide io le acquisto spesso e volentieri su notino perché sono sempre o quasi sempre in offerta per cui abbondo con gli acquisti poi ho utilizzato e finito dei sieri due allora il primo è all'acido ialuronico oggi non so parlare scusate di The Ordinary questo io lo compro lo ricompro lo utilizzo sia come siero ma anche abbinato a un fondotinta liquido mixato assieme so che è una cosa che magari non piace a tutti vedere io mi ci trovo molto bene e come dico sempre ognuna con i propri prodotti fa quello che vuole quello che invece mi ha delusa è questo al collagene è un siero arritinolo di balea allora inizialmente mi piaceva però il problema principale di questi sieri di balea è che prelevano veramente pochissimo prodotto vedete e poi cioè non scende nulla cioè scende proprio una goccina ma che te ne fai tra l'altro verso la fine mi ha creato diverse imperfezioni che fortunatamente sono andati via a parte questo qui che ho cercato di coprire con il correttore ma va bene non lo andrò più a ricomprare però vi consiglio la crema per il viso con cui mi sono trovata molto bene parlando di crema viso allora ho terminato due prodotti di Lavera della linea Basis Sensitive che sa tantissimo di torta a limone li ho acquistati su Ecco Verde in promozione questa è la crema viso se non sbaglio 24 ore può essere usata sia la mattina che la sera con all'interno il Q10 acido ialuronico da 50 ml molto buona finita buonissima la profumazione consistenza leggera e poi si assorbiva in un nanosecondo non faceva scia bianca idratava perfetta la mattina come base per il trucco ma anche la sera come crema idratante leggermente nutriente ma per niente pesante questa invece è la crema contorno occhi della stessa linea mi è piaciuta l'ho utilizzata più che altro la mattina idratava se assorbiva in un nanosecondo perfetta soprattutto per chi come me è spesso e volentieri in ritardo per uscire nel mio caso per andare a lavoro poi altre due creme contorno occhi allora la prima vi dirò punto di domanda nel senso che si andava ad idratare però non è che ho visto chissà che cosa anche se non sono prodotti che fanno miracoli parliamoci chiaro è la nutri vegetal trattamento occhi perfezionatore dello sguardo ricompattante addirittura anti stanchezza non vi sto dire nulla di questa crema l'avevo presa diverso tempo fa ma veramente diverso tempo fa senza arte ne parte questa invece di balea q10 antifatica non mi è piaciuta per niente ma semplicemente perché si stendeva si facilmente però creava un sacco di grumi non mi sono trovata bene la mattina né tanto meno la sera quando avevo la zona periculare abbastanza secca e quindi avevo bisogno di una crema con tornocchi un po' più pesante quindi abbondavo ma più ne mettevo peggio era la situazione mi sono trovata malissimo e poi mi ha creato un sacco di granelle di miglio qua sotto che adesso sono spariti perché chiaramente non la utilizzo più di conseguenza via poi ho utilizzato e finito assieme a mio marito questi due colluttori allora pasta del capitano l'ho usato spesso e volentieri io più che altro perché è molto delicato e avendo delle gengive molto sensibili questo per me è l'ideale questo invece l'ho utilizzato è finito più che altro il mio marito l'istering che è una bomba ma veramente una bomba è piaciuto tanto a lui infatti l'ha ricomprato ma io preferisco utilizzare colluttori non sempre ogni tanto comunque molto delicati poi vabbè che ve lo dico a fare raga cioè vogliamo parlare sono tutti della colgate 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 dentifrici ottimi che io prendo al mercato semplicemente perché costano poco colgate 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 quanti saranno 5,6,7 boh ho perso il conto poi parlando invece di prodotti per il corpo allora bagno e schiuma andiamo allora il primo è di today preso al penny pagato pochissimo magnolia ce n'è ancora un goccio lo utilizzerò oggi diluito con dell'acqua molto buona la profumazione l'abbiamo anche ricomprato non va a seccare fa anche una bella schiuma ci piace anche perché i bagno e schiuma ragazze devono lavare non è che devono profumare io spesso e volentieri sento dire che i bagno e schiuma lasciano un profumo tutto il giorno profumiamo di vaniglia di magnolia no lavano punto quello che profuma al massimo è la crema per il corpo e chiaramente il profumo che andate ad utilizzare sopra però molte persone sono decoccio e pensano di fare le maestrine di torno quando in realtà non lo sono ma comunque andiamo avanti due bagno e schiuma che ho preso su eco verde sono questi allora rimanendo in tema la vera bio sensitive scusate basis sensitive in crema non mi ha fatto impazzire più che altro per la consistenza perché era quasi un latte crema che non andava a pulire bene ora non è che c'è tanto da pulire però voglio dire era più il prodotto che cadeva sul piatto doccia che sulla pelle non mi aveva fatto impazzire in più non faceva tantissima schiuma ma si sa i prodotti bio non è che faccio non chissà quanta schiuma e green natural ace bagno doccia si energizzante di cui ho acquistato tutta la linea ho preso anche i prodotti per i capelli che forse vi avevo fatto vedere in video non mi ricordo che sto utilizzando in questo periodo comunque questo è un bagno schiuma che è piaciuto tantissimo a me un po' meno a mio marito più che altro per una questione di profumazione ma lui i prodotti biologici non è che li ama più di tanto comunque altro bagno latte dolcente è questo di Nidra allora molto buono cremoso questo è al fico latte di fico e aloe faceva una bellissima schiuma si risciacquava facilmente però io ma anche mio marito preferiamo sicuramente la versione quella classica di Nidra quella col tappo azzurro perché questa allora è un prodotto buono sì non andava a seccare la pelle ma la profumazione ha nauseato troppo dolce invece quello classico delicato ci piace molto di più dopodiché abbiamo anzi ho utilizzato e finito il bagno doccia fiori d'oriente di bottega verde questo mi era stato omaggiato dopo aver fatto un acquisto online buono mi è piaciuto come tutti i bagnoschiuma di bottega verde in full size l'ho trovato a 3,99 in offerta non va a seccare la pelle fa tantissima schiuma mi sono trovata malissimo con il suo profumo fiori d'oriente della stessa linea perché non durava nulla ma ve ne parlerò poi in un video utilizzato e finito vediamo questa crema per il corpo energizzante che ho tagliato mi è piaciuta molto non fascia bianca si assorbe subito il profumo molto naturale e agrumato utilizzata e finita questa crema dopo sole anche se in realtà non sono andata al mare però l'ho usata lo stesso di bottega verde e utilizzata e finita questa che è la crema profumata per il corpo danza di fiori di erbolario sapete che è una delle mie linee preferite questo era è un campioncino praticamente trovato all'interno del calendario dell'avento diverso tempo fa va bene parliamo un po' come maniamo ah altro dentifricio colgate poi utilizzato e finito assieme a mio marito due di dav di odoranti spray sapete che sono i nostri preferiti i nostri must have non ho da dire nulla così come non ho da dire nulla riguardo il detergente biodelicato al bambù di alchemilla lo compro lo ricompro inizialmente lo utilizzavamo come sapone per le mani ma è ottimo come detergente intimo la profumazione è meravigliosa presa su ecco verde poi neutromed detergente lenitivo intimo 5.5 io questi li compro e li ricompro soprattutto da tiguità quando sono in offerta e poi qui sto facendo un casino che non si finisce più comunicazione di servizio ok assorbenti quelli che trovo in offerta acquisto anche se ilinis è seta con le ali sono tra i miei preferiti utilizzate finite le lamette questi della simply venus sapete che sono sempre al contrario le mie preferite però anche queste della today che ho preso da scusate penny market devo dire che sono molto valide utilizzato e finito poi il basis sensitive deodorante roll on sempre di la vera con cui mi sono trovata malissimo perché non dura niente ma come ho già detto in più video io con i deodoranti biologici lo costa e costa mi sono sempre trovata molto male perché non durano non c'è nulla da fare utilizzati e finiti poi questi saponi liquidi sotto forma di ricariche questa presa su eccoverte alcarite bio molto buona la consistenza bella cremosa non andava a seccare le mani l'unica cosa la profumazione infatti è un prodotto che non andrò per ricomprare e poi questo che è un antibatterico al tè verde di neutro roberts preso da tigotene offerta sicuramente lo voglio ricomprare perché è piaciuto molto sia a me che a luca non andava a tirare la pelle profumava leggermente le mani e anche antibatterico igienizzante che vogliamo di più dalla vita poi utilizzato e finito l'igienizzante mani finalmente di balea non perché io mi sia trovata male ma semplicemente perché era da un anno forse che ce l'avevo e calcolate che ha scadenza 24 mesi di apertura quindi ero diciamo perfetta con la scadenza anzi l'ho finito molto prima lo tenevo in borsa buona profumazione pagato poco arriviamo a noi ho utilizzato saponette solide allora questa muschio bianco dei tesori d'oriente l'ho usata più per i pennelli e devo dire che sono molto profumate spesso e volentieri sono in offerta e poi questa saponetta della breeze che io in realtà ho utilizzato per il corpo freschezza talcata sapone mi sono trovata benissimo non mi andava a tirare la pelle sarò contraddittoria ma ultimamente sto amando le saponette per il corpo più che bagno e schiuma liquidi non lo so mi sento più non pulita però più purificata anche se vanno un po' a seccare la pelle però insomma sono veramente ottimi io mi ci trovo bene sono anche comodi da utilizzare in doccia per quanto riguarda invece il make up così concludiamo ho utilizzato e finito una cipria vecchissima di Kiko la dark etarijur di una collezione penso di 3-4 anni fa non mi ricordo ottima come tutte le ciprie di Kiko questa era un'edizione limitata ho utilizzato e finito l'ultimo primer che avevo di L'Oreal no scusate della Rimmel il Magnifies pagato 7 euro su un ottino mi sono trovata da dio avevo preso due confezioni una l'avevo finita tempo fa questa la seconda gli ombretti duravano tutto il giorno non si infilavano nelle pieghe top poi ho utilizzato e finito il mio L'Oreal Lush Paradise famosissimo io mi sono trovata da dio lo scovolino è molto simile al Better Than Sex di Too Faced che come ben sapete è uno dei miei mascara ai cost preferiti comunque lo scovolino si presenta così mi sono trovata molto bene andava a volumizzare a separare bene le ciglia faceva quasi un effetto ventaglio e si struccava abbastanza facilmente con uno struccante bifasico dopodiché ho utilizzato e finito purtroppo la mia Huda Beauty dove da una parte c'era l'eyeliner finito decenni fa e la matita nera che per chi segue i miei tutorial avrà notato insomma che è un prodotto che ho utilizzato spesso e volentieri perché è una matita di un bel nero intenso con un'alta tenuta non sbava la voglio ricomprare e poi questa di Chicola numero 09 un bellissimo verde bosco ma ragazze cioè guardate cioè va via la mina cioè che palle vedete cioè oddio mi è anche caduta va bene è inutilizzabile dopo la andrò a prendere vado a buttare questo metal shock famosissimo di essence argentato semplicemente perché io lo volevo utilizzare ma dov'è la spugnetta è qua quindi va bene è anche vero che ce l'ho da anni mai utilizzato forse per questo che insomma il pennellino da solo si è usurato però ragazzi vabbè poi utilizzato e finito il fissatore del make up di natural che ho acquistato da Tigotà sui 10 euro molto buono non mi è piaciuta la profumazione come ho già detto ma è un ottimo fissante make up lo andavo ad utilizzare ogni tanto soprattutto poi in estate ho dato una bella botte via a fine make up e devo dire che non va a seccare la pelle in più mi faceva durare tanto il make up tutto il giorno poi vado a buttare l'ennesima spugnetta di essence perché come l'ho acquistata su un ottino da asciutta è dura da bagnata è dura vabbè che io non sono make up artist però insomma voglio avere anche delle spugnette valide da utilizzare con fondotinto correttore niente e poi campioncini vari tra cui wood anzi good di elan gel doccia profumato sapete che io ho acquistato la versione profumo piccolina e insomma un buon bagno schiuma buona profumazione profumava tantissimo il bagno poi bagno schiuma danza di fiori che ve lo dico a fare di erbolario di cui avevo acquistato anche la full size bagno schiuma ormai finito poi olio gel detergente sfogliante viso trattamento dermo purificante anti inquinamento di cui ho la full size che prima o poi utilizzerò questo fa parte della linea alga detox e l'ultimo è purpurea rosa di erbolario sempre balsamo per le mani che poi il prodotto in full size me l'aveva regalato mio marito se non sbaglio per il mio compleanno per san valentino non mi ricordo molto buona la crema mi lasciava le mani belle morbide idratate ma anche nutrite senza ungere né tantomeno appiccicare detto questo ragazze scusate per le gaff fatemi sapere cosa ne pensate spero di avervi tenuto compagnia sapevo che questo video durava così tanto basta io vi auguro una buona giornata una buona serata un mega beso e ci vediamo presto al prossimo video ciao ciao